Traffico in tilt stamattina tra via delle Calcare e via Rochester a causa della caduta di calcinacci dal ponte che sovrasta la stessa via delle Calcare, nella zona dell'ex passaggio a livello. Erano le prime ore del mattino quando alcuni automobilisti hanno segnalato la presenza di detriti sulla carreggiata che rendevano difficile il transito delle auto. Sul posto sono arrivati rapidamente i vigili del fuoco insieme ai carabinieri e alla polizia municipale. Subito si è capito che era necessario bloccare il transito delle auto lungo la via delle Calcare, e ciò ha causato disagio alla viabilità, visto che essendo le prime ore del mattino, fascia in cui tanti si recano sul posto di lavoro ed è anche il momento dell'apertura delle scuole, il traffico era piuttosto intenso. I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza la parte inferiore del ponte e rimuovere i detriti dalla strada. Nel frattempo i carabinieri e la polizia municipale hanno bloccato gli accessi a via delle Calcare, dirottando il traffico su altre arterie stradali.